Nel 2017, grazie al voto favorevole di 122 paesi, le Nazioni Unite hanno adottato il trattato sulle proibizioni delle armi nucleari, nel quale sono stati dichiarati illegali gli arsenali nucleari. Nello stesso anno è stato assegnato il Nobel per la pace a ICAN International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, premiata per il suo lavoro nel voler attirare l'attenzione sulle conseguenze catastrofiche di qualsiasi utilizzo di armi nucleari e per i suoi sforzi nel raggiungere un trattato per il divieto delle armi. ICAN è un'organizzazione no profit nata nel 2017 in Australia, con sede a Ginevra, composta da 468 organizzazioni partner in 101 paesi. Castel Nuovo Cilento è uno dei comuni che è aderito all'associazione Mayors for Peace e che prosegue nell'azione di sostegno alla campagna Italia Ripensaci, promossa da Rete Italia, pace e disarmo. Campagna senza atomica e Marios for Peace, affinché l'Italia ratifichi il trattato. Attraverso un comunicato stampa, il sindaco Eros Lamaida ha annunciato alla comunità che dal 22 gennaio è entrato in vigore il trattato sulla proibizione delle armi nucleari, un nuovo e lungo percorso che ha come unico obiettivo la pace nel mondo. Castel Nuovo Cilento è tra circa gli 8.000 comuni al mondo aderenti a Mayors for Peace e ha partecipato pertanto all'appello per le campane del 22 gennaio che a mezzogiorno in tutto il comune, in occasione dell'entrata in vigore del trattato di proibizione delle armi nucleari, hanno annunciato appunto la festa per la partenza di un percorso di speranza concreta e operativa di pace per tutto il mondo, per un mondo senza armi nucleari. Castel Nuovo Cilento c'è, le parole del primo cittadino attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook.